Quando l'orco si nasconde in casa, abusava della figlia da quando aveva 5 anni e mentre aveva rapporti con lei addirittura la filmava. L'indagine ha preso avvio da una vicenda che riguardava una truffa per la vendita di un telefonino compiuta dall'uomo nei confronti di una minorenne quando per un lungo periodo è stato residente all'Aquila dove impartiva anche ripetizioni private a ragazzini. Non solo la vendita tarocca ma aveva anche tentato un approccio ravvicinato con la ragazzina stessa. Allora è scattata la denuncia e l'appostamento per l'uomo. Gli agenti lo hanno sorpreso in strada qualche giorno fa assieme alla figlia di 11 anni. Dentro un carrello per la spesa aveva messo un computer e DVD vari da gettare. Voleva disfarsi insomma delle prove. C'erano custodie di cd di Allochitti per nascondere invece il peggiore degli incubi. Un filmino terrificante quello che hanno trovato gli agenti. La figlia dell'uomo era ripresa in un video hard con il papà. Il tempo di affidare la piccola ai vicini e la polizia è entrata così nella casa del pedofilo. DVD oltre 500 pieni di immagini pornografiche. Quasi 200 che ritraevano minori. Visionando poi analizzando gli oltre 500 DVD con immagini pornografiche di cui circa 200 con immagini minori gli investigatori hanno scoperto che la protagonista principale di un filmato amatoriale era proprio la bambina. Tra le quattro mura domestiche era costretta a rapporti sessuali con il padre. La minore ora è stata affidata alla madre separata dall'uomo da oltre 5 anni mentre l'uomo è stato portato in regime di isolamento nel carcere di Regina Celi in attesa dell'interrogatorio di garanzia.